Buongiorno, sono Roberto Rallino, chef dell'Osteria Mood. Vi presentiamo il nostro servizio delivery e la modalità per rigenerare la pasta. Questa è la confezione che arriverà a casa vostra. All'interno troverete la pasta con il sugo abbinato. Mentre faccio bollire l'acqua, prendo il sacchetto, taglio il sacchetto e verso il contenuto all'interno della padella fredda. Prendo la pasta e la facciamo cuocere per due minuti nell'acqua. Nel frattempo portiamo a bollore il sugo. Verso la pasta nella padella e porto il fuoco al massimo e inizio a mantecare. Ci vorrà circa un minuto, un minuto e mezzo, finché non incomincia a crearsi una cremina. Vedete qua? Non è più liquido, le bolle sono grandi. È perfettamente mantecata, vedete che è lucida, con la salsina sotto. Questo è il risultato giusto. Questo è il piatto finito, buon appetito!